Ciao ragazzi, mi vedete? Ecco qua, ho postato un bel così, un po' di cose perché adesso vi faccio vedere dei miei anti-stress. Cominciamo dai poppits. I poppits sono, invece io vedo una forma io prima e poi vedo tutte le altre, ok? Allora, questa è una delle forme che ho, perché ho quelli di Natale e qui mi scadono gli altri, però non ve li faccio vedere tutti perché sennò non posso farle vedere gli altri. Cominciamo da questo poppits e faccio sentire il rumore, però gli altri non ve li faccio vedere, perché sono troppi. Però, visto che volevo fare sentire come erano i poppits, li faccio sentire solo voi perché altri... Ci metto una vita, poi farfesso video perché sono troppi. Comunque, ascoltate. Molto ASMR e il diatore, tipo, è un'unico cosa. Mi sono dimenticato una cosa, vabbè, dopo lo prendo. Per me questo è un... E' un, come si chiamano? Altri stress, perché tipo, si giri, ca... Qui giri. Mi piace perché... Allora, la mia vita sono i squishy. Adoro sempre, voglio sempre squishy, in realtà. I patti, lo credo pure io, i paper squishy, come avete visto nell'altro video. E io ce n'ho tanti questi. Ma non sono tutti uguali, sono piccimi. Poi per me è un riscesso, aspettate che metto questo dentro, perché vi provo a far vedere, pure mentre apro questo, un zimple, un zimple, un zimple, un zimple. E poi, mi piacciono queste cose, che tipo... Soprattutto ci rumore, sentite. Aspetta. Molto bello. E poi, eppure, pop it. Questo è il bello. Stop, perda. Qui ci penso che voglio giocare ogni volta, faccio così. Blu. No, rosso. Adesso ci provo di nuovo, allora. Rosso. Verde. Oh, che mio vero verde. Poi, super, super, molto bello. Allora, voglio per terra. Cioè, voglio sul camò. Sentite. Molto bello. Sentite come scoppia tanto bene. Molto bello. Molto bello. Spoppi. Tutto, molto bello. Questo, voglio, metto a posto. Aspetta bene. Non è cazzo. Non è cazzo. Una cosa, che mi fa, troppo rilassare. Appunto. lo metto sempre nel comodino 1, 2, 3, aiuto 4 io faccio qualche altro questi tubi i tubi li adormi e devo comprare altri il cielo zallo mio è quello preferito rosa e rosso sentite il super rumore si aprono i tubi sono questi chiusi no? c'è 9 io ho più 3 appunto perchè io adoro questi codi qua li adoro proprio troppo avete capito? perchè io adoro sempre queste cose i tubi questi tubi li adoro infatti l'ho visto l'ho visto grazie al youtube che mi ha fatto vedere i tubi grazie mille comunque allora ragazzi l'altro è questo sembra cioè è un gatto non è che sembra molto bello una palla e tu vai tipo lo devi buttare non è andato aspettate lo devo prendere che l'ho preso e quando ve lo butti si apre questa qui e la sua bocca cosa sembra vabbè comunque è così vediamo che poi c'è una lingua lo tengo fermo qui si muove la lingua qui c'è i denti si possono appunto guardate mettere in dentro perché qua si possono mettere in dentro sotto la parte questa è la parte di sopra appunto perché quando voi fate così oppure lo fate normalmente è così quindi sono tutte le altre strassi sono tutte le perline quasi tutte le perline dei bracciali che si sono rotti sono tipo mille e niente è finito con il video e ciao